Una bolletta d'acqua shock da più di 1.500 euro a conguaglio e sulla base dell'importo stimato. Più di 1.500 euro, per la precisione 1.506,25 centesimi. A tanto ammonta la bolletta dell'acqua ricevuta in ufficio dal consigliere dei 5 Stelle Stefano Patuanelli. Si tratta di una lettura stimata, ma il consumo dell'ufficio è in realtà bassissimo, assicura il consigliere, che subito si sfoga su Facebook puntando il dito contro il servizio di Acegas, APS e AMGA. Il problema non è la cifra shock che ovviamente è sbagliata e si rettifica, il problema è il tempo perso e soprattutto capire quanti cittadini come me ricevono bollette shock e quanti cittadini devono fare la fila, fare telefonate, rettifiche, perdere tempo della loro vita, perdere gli errori di un'azienda che doveva invece, dopo la fusione con ERA, assolutamente migliorare i servizi. Se qualcuno fosse venuto a leggere il contatore, ha precisato Patuanelli, avrebbe visto che il consumo era di 48 metri cubi contro i 450 fatturati. Significa più o meno 2 metri cubi d'acqua al giorno e significa quindi 2000 litri di acqua al giorno per un ufficio dove tutto il più, oltre allo sciacquone, ci laviamo qualche volta le mani. Il consigliere 5 Stelle elenca poi altri disguidi di cui è stato vittima, come l'assenza di risposte dall'azienda a una sua richiesta di passaggio di un contratto o l'avviso ricevuto per la lettura del contatore di casa che si trova però in un pozzetto sulla pubblica via, ma di servizi vengono segnalati sempre più spesso da tanti cittadini. Il problema è che in realtà le segnalazioni che noi riceviamo dai cittadini sono di una quantità di errori percentualmente molto importante e quindi chiediamo che ci sia una valutazione sulla qualità del servizio. Il problema è che non riusciamo a migliorare un sistema di erogazione dei servizi pubblici perché il comune si allontana sempre di più dal soggetto gestore.